Il reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Francesco di Nuoro non chiuderà. E' un'ottima notizia, il lavoro portato avanti in questi giorni dall'assessore della sanità Mario Niedu ha consentito di arrivare alla soluzione di un problema molto complesso. E' quanto sottolinea in una nota Pierluigi Sayu, consigliere regionale della Lega, è presidente della Commissione Autonomia e Riforme del Consiglio regionale. Il 24 giugno scorso ha reso nota la comunicazione della direzione dell'area sociosanitaria locale in cui si dava notizia della chiusura estiva del reparto per tre settimane, da quel momento è partita non solo una mobilitazione territoriale a cui hanno aderito anche altre forze politiche, ma ha iniziato una vera e propria corsa contro il tempo che ha visto impegnati in prima persona l'assessore della sanità e il gruppo della Lega in Consiglio regionale e sottolinea Sayu. Ci siamo occupati di un'emergenza dovuta allo stato del sistema sanitario regionale così come lo abbiamo trovato. Affrontata e risolta l'emergenza però dobbiamo adesso occuparci di dare al reparto di neurochirurgia la dotazione di personale necessaria. Il lavoro svolto dallo staff e dal reparto in questi anni e in queste condizioni è stato eroico. Hanno saputo supplire alla carenza di personale lavorando di più e sacrificandosi. Hanno potuto in questo modo garantire che il reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Francesco conservasse i livelli di eccellenza che conosciamo, continua il consigliere regionale della Lega. A loro deve andare il ringraziamento di tutta la nostra comunità. Dobbiamo, ha concluso Sayu, impegnarci ora per sbloccare i concorsi che permetteranno l'assunzione di nuovi medici. Sappiamo che l'assessore alla sanità è già al lavoro in questa direzione. Vogliamo dare soluzioni strutturali ai problemi che abbiamo trovato e che sono davvero tanti. Abbiamo ereditato una sanità a pezzi e stiamo lavorando per metterla in piedi. Grazie a tutti.